Dall'arbitro al docente di astronomia e astrofisica allo chef. Sembrano tutti ruoli maschili, sono invece le donne e le loro storie di ordinaria normalità raccontate nel libro della giornalista Sky Tonia Cartolaro, presentato nell'aula del Consiglio Comunale di Napoli insieme con il suo presidente Enza Amato in un incontro moderato dal direttore di Canale 21 Gianni Ambrusino. L'autrice le chiama leaders con un H di troppo, giusto per distinguere queste donne che hanno fatto carriera ognuna nel proprio campo dalla figura del leader, tradizionalmente maschio. Ma l'autrice avverte non è una lotta femminile contro l'universo maschile. C'è qualcuna che è arrivata dall'inferno, qualche un'altra che è arrivata magari da percorsi più ordinari, ma sono tutte donne che hanno faticato molto. Dietro le loro storie, nelle loro storie c'è il sacrificio, c'è la costanza, c'è la perseveranza, c'è la volontà, c'è l'impegno quotidiano, c'è tanto lavoro, c'è tanta sofferenza e poi tanta soddisfazione. Normalmente noi se immaginiamo posizioni di comando pensiamo a posizioni di responsabilità che sono in genere in mano agli uomini. Invece lo sforzo che dobbiamo fare è iniziare a pensare probabilmente che quella responsabilità può essere condivisa. Questo non è un'occasione per mettere le une contro gli altri, cioè le donne contro gli uomini. No, è con. Il contro non esiste, anche perché le sfide importanti, i cambiamenti importanti nella vita e nella storia si fanno insieme, non qualcuno controposto a qualcuno di un altro. In effetti è un po' il senso del libro. Testimonianza di capacità e perseveranza viene da Rosanna Marziale, chef di un rinomato ristorante casertano. In cucina c'è lei che guida una squadra di cuochi, tutti uomini. Io sono una cuoca, ho inventato dei piatti, per cui posso dire di essere un esempio perché i miei piatti vanno abbastanza bene, per cui sono un esempio e spero di esserlo per le nuove generazioni, quindi dalle bambine a chi sta già facendo gli istituti alberghieri.